Oggi i balneari hanno dichiarato lo sciopero, lo sciopero per quanto mi riguarda è estremamente ridicolo, bizzarro, due ore chiudono gli ombrelloni. Bene, noi abbiamo detto che oggi, e sappiamo che questo sta anche accadendo, gli cittadini invadano le spiagge perché le spiagge sono di tutti, le concessioni sono scadute. Ci troviamo bagni come quello del Twiga di Briatore che paga 20.000 euro l'anno e con una pagoda dove andava sempre la Sant'Anchè si pagava e si paga 600 euro o 1.000 euro al mese. Oppure come a Genova, a Paraggi dove ci sono stabilimenti che pagano 5.000 euro l'anno e le risorse le incassano in mezza giornata di attività lavorativa. Detto questo, è il disastro che ha compiuto la Meloni che vuole privatizzare le spiagge, ha allungato le spiagge italiane di 3.000 km per evitare di mandarle in concessione. Noi vogliamo difendere le spiagge libere di fronte all'astropotere di chi le ha privatizzate e cementificate.